Siamo qui in compagnia con Michela Magnani, neoconvocata dalla Nazionale Italiana di City Volley. Quali sono le tue prime impressioni in questo primo giorno di workshop? Sono molto positive, è molto bella la squadra, il complesso così, è un'esperienza molto seria che si fa tutte assieme. Mi piace come esperienza, mi è piaciuta moltissimo la pallavolo City Volley come impatto che ho avuto qua quest'autunno. La convocazione nazionale che era assolutamente inaspettata ha dato veramente una carica, mi sto rendendo un po' conto adesso di dove siamo. E' bello anche tutto il complesso intorno, ci sono poi delle regole precise da seguire, insomma è interessante. Quali sono gli obiettivi invece che ti poni per iniziare questa nuova avventura? Di migliorarmi il più possibile, di creare una bella, proprio la squadra mi piace molto l'idea che sia bella unita e, insomma, una bella relazione, insomma, tra di noi e così, e di una bella forza, però tra quando ci siamo sentite e prima di partecipare tutto c'è un bel clima, una bella, non c'è Arlia, cose che magari possono mettere tensione, quindi sono convinta che verrà fuori un bel gruppo forte.